Non è riuscito a sfruttarla e poi l'espulsione di Del Moro Agosteletto a rientrare ai giocatori del Corridone Intanto ci prova con la conclusione La conclusione è il gol Del Cassette che nel recupero la riprende Ed è 2 a 1 Ma che gol Il risultato cambia un'altra volta Questa volta al quinto minuto di recupero Ed è 2 a 1 per il Cassette Verdini Che probabilmente porta a casa tre punti fondamentali